Incontro a Teramo per discutere la presenza di tutti gli attori istituzionali, datoriali e sindacali del passaggio dal motore endotermico a quello elettrico. Presenta all'incontro anche Ferdinando Uliano, segretario nazionale FIMCIS, responsabile del settore automotive nazionale. Siamo in una situazione molto complessa nel settore perché siamo travolti dalla situazione di difficoltà di produrre, nonostante ci siano gli ordini, tutto il problema ai semiconduttori. Dei componenti che mancano, che stanno di fatto bloccando la possibilità di far fatturato e fare ricavi. E dentro questa difficoltà che è tipica di questo momento, noi abbiamo un processo di trasformazione enorme che sta travolgendo il settore. Il cambiamento dalle motorizzazioni endotermiche a quelle elettriche è prossimo perché nel 2030 le case automobilistiche, quindi non aspettando il 2035 deciso dall'Europa. Quindi anticipandoli i cinque anni, le case automobilistiche hanno deciso di interrompere le produzioni sulle motorizzazioni tradizionali. E questo comporta un contracolpo occupazionale enorme. E quindi noi stiamo chiedendo al governo di fare presto a convocarci, di fare presto a mettere in campo questi incentivi che servono per il settore industriale e poi servono tante altre cose. Nella provincia di Teramo, in particolare sul settore automotive, molte aziende hanno incentrato il proprio prodotto appunto sul motore endotermico. E se non ci sarà una riconversione prima del 2035 il rischio è quello di una forte perdita occupazionale. L'obiettivo è tracciare un percorso fattivo ma non a chiacchiere, è un percorso che comunque ridia visibilità innanzitutto al settore metalmeccanico che è importantissimo nella provincia di Teramo. Ma poi per fare un percorso nel caso arrivasse questa riconversione del motore endotermico a quello elettrico. Perché se trovarci impreparati nel 2035 su questo argomento vorrebbe dire veramente un disastro sociale nella provincia di Teramo. Quindi chiederemo alla politica di impegnarsi effettivamente e innanzitutto di lanciare questo allarme. In provincia di Teramo sono circa 1000 i dipendenti dell'automotive più l'indotto, composto da piccole e piccolissime imprese per arrivare a oltre 4000 posti di lavoro. Insieme al collega D'Amarrio al riguardo abbiamo istituito un tavolo apposito perché è un settore in forte evoluzione sia per quanto riguarda la transizione digitale sia per quanto riguarda l'elettrificazione. Rappresenta una percentuale di pilli importante per il 15% della regione Abruzzo l'automotive con tutte le aziende collegate, oltre 25.000 addetti, solo 20.000 nella Val di Sangro ma anche nella provincia di Teramo abbiamo circa 5.000 lavoratori. Come regione stiamo mettendo in campo una serie di misure sia per quanto attiene lo sviluppo economico in cui sono previsti una serie di misure economiche per aggiornare, ammodernare i macchinari appunto perché ci troviamo in una fase di transizione sia per quanto riguarda le politiche del lavoro. Grazie a tutti.